Un impianto di autodemolizioni di via Ostaglio è stato sequestrato dai militari delle stazioni Carabinieri Forestale di Salerno e San Cipriano Picentino nell'ambito di controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale. L'impianto di autodemolizioni nel comune di Salerno è stato sequestrato mentre il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali ed inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni. I Carabinieri Forestale nel corso di un controllo ai confini tra il comune di Salerno e San Cipriano Picentino per assicurare che le regole sul trattamento dei veicoli fuori uso siano rispettate a garanzia della salubrità pubblica e dell'ambiente hanno avuto modo di accertare da un'analisi della documentazione una non coerente corrispondenza. Sono emerse poi irregolarità rispetto al trattamento e bonifica sia dei veicoli fuori uso che per lo smaltimento e gestione dei rifiuti pericolosi di raccolta e trattamento dei reflui. Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri delle Stazioni Forestale di Salerno e San Cipriano Picentino che continueranno su tutto il territorio provinciale di Salerno hanno portato i militari non solo al sequestro dell'impianto di autodemolizioni alla denuncia del titolare ma anche ad elevare sanzioni amministrative per un importo complessivo di 7.500 euro.